Oltre 3.350 residenti in centro storico, 214 attività commerciali, 262 cantieri, 1.274 dipendenti di tutti gli uffici pubblici presenti in centro storico. È il risultato di uno studio appena sfornato dal comune dell'Aquila che fa una stima delle presenze nel centro storico e presentato questa mattina a Villa Gioia dagli assessori e dei consiglieri di maggioranza. Una città che piano piano riprende possesso dei suoi spazi e delle sue funzioni a partire da una serie di progetti strategici e di opere che dovranno essere realizzate. A partire dal piano regolatore, nel marzo 2017 poco prima del voto la maggioranza dell'ex sindaco Cialente era riuscita ad approvare in consiglio comunale il documento preliminare dopo la conclusione delle tre fasi propedeudiche. Ora toccherà l'assessore all'urbanistica Danieli Ferella e al gruppo di lavoro presentato la settimana scorsa portare a termine il percorso. Rivitalizzare il centro storico tramite l'utilizzo innanzitutto dell'isola pedonale sarà una cosa importante che partirà dal primo di agosto grazie al lavoro dell'assessore Mannetti, tutto quello che riguarda i parcheggi. Abbiamo intercettato a stretto giro altri 250 posti circa auto per parcheggiare nelle zone limitrofe al centro storico. Riportare la socialità è l'obiettivo, riportare le persone che vadano a spendere nelle attività commerciali e riportare le persone che partecipino alla vita culturale di questa città. L'obiettivo del piano non è nient'altro che questo, sembra semplice ma c'è da fare. L'obiettivo non è quello di ampliare il piano regolatore vecchio, anzi in realtà già il dimensionamento è in leggera riduzione, è quello di riqualificare e ricucire, quello è stato detto benissimo anche dal professor Urbani. Questa città ha bisogno di riscoprire le sue caratteristiche e rivalorizzarsi, questo è l'obiettivo principe. Nasce intanto una cabina di regia che mette insieme quattro diversi assessorati, viabilità urbanistica, commercio, opere pubbliche con lo scopo di fare da raccordo tra la Giunta e il Consiglio Comunale. Si parlerà di temi come il piano del commercio, pianificazione territoriale, perché no parcheggi in centro storico legati quindi a tutte quelle problematiche che nei giorni scorsi sono anche venute in commissione. La seconda commissione sarà di impulso anche per la cabina di regia dove praticamente attraverso la seconda commissione si discuterà e si metterà al corrente i cittadini di quelli che sono insomma i temi caldi di discussione. Grazie. Grazie.